Salve a tutti ragazzi, sono la vocina fuoricampo di Paul. Sono qua per farvi una premessa che l'audio del video non sarà un audio delle migliori perché ho registrato con il microfono ma purtroppo in fase di rendering ho avuto dei problemi nel montaggio dell'audio del microfono e quindi sentirete l'audio del telefono che è sempre dei migliori. Quindi adesso vi lascio al video, buona visione! E beh a tutti ragazzi che vuole bentornati oggi! Siamo con questo nuovissimo video, siamo sul secondo video del vlog of the week Ok ragazzi, inizialmente vi esorto subito a lasciare un bel like per supportare la serie di ogni settimana Come vedrete abbiamo cambiato inquadratura Non è più il mio solito inquadratura del mio letto, i miei poster che alcuni dicono che fanno cagare perché c'è Game Therapy ma io l'ho messo perché solo graficamente è fatto abbastanza bene Poi del contenuto del film mi fa cagare anche a me perché poi vabbè non l'ho neanche visto quindi già solo che c'è Favij vabbè non sto sfruttando nessuno, tranquillo Ho cambiato inquadratura, ditemi se vi piace questa inquadratura che magari potrei fare i miei video in questa maniera qua Allora, come è andata la settimana ragazzi? A parer mio la mia settimana personalmente è andata abbastanza bene Ho iniziato lo stage lunedì, mi sono trovato, mi sto trovando anche benissimo appunto dove sono andato anche l'anno scorso in stage quindi mi sono trovato ancora meglio, sto facendo dei lavori molto molto belli appunto io sono un grafico, sto facendo grafica e mi piace molto questo ambito, questo mestiere Come seconda cosa, come è andata voi la settimana ragazzi? Spero bene perché vabbè c'è la scuola di mezzo però si stanno avvicinando le vacanze natalizie Ok, stanno avvicinando le vacanze natalizie Poi per l'ambito videoludico la settimana è andata abbastanza bene solo perché non sto prendendo tante visual non so se è nel periodo non so se vi siete rotti il cazzo di guardare me è solo io continuo a fare video anche se prendo pochissime visual perché non so se... boh, non so cosa è successo all'inizio prendevo un sacco di... cioè un sacco, abbastanza 60, 100 anche visualizzazioni adesso ci siamo abbassati a 45, 35, 25 con vabbè 11, 15 like per questo ci stanno i like ragazzi mi fa piacere solo a me mi fa piacere solo a me che mi vedete e vi dico lasciate un like così fate vedere che ci siete comunque non sembrano niente per YouTube i like ok? E vi è uscito il video di Rainbow Six Siege Six Siege come cazzo volete chiamarlo anche voi andate a vederlo è quello lì della settimana che ho messo io Diego avrebbe dovuto caricare Halo l'ha caricato però è successo un problemino siccome ha messo il logo della Dual Gamers non so perché per vari motivi gli si è abbassate le qualità quindi era a 360p siccome non avreste voluto vedere anche io non avrei voluto vedere un video di Halo a 360p ha preferito toglierlo e registrarlo un altro e caricherà più presto o probabilmente anche settimana prossima quindi basta avere anche un video della settimana due fa ancora meglio uno però è abbastanza anche quello Diego oggi non è qua perché? per un motivo molto serio che doveva accompagnare sua mamma a Milano per un problema ecco niente di grave tranquilli e quindi oggi non c'è comunque molto probabilmente per settimana prossima ci dovrebbe essere il vlog of the week però vabbè Diego avete visto che è presente sul canale ha messo anche video di Halo due settimane fa se non l'avete visto ve lo metto in descrizione è andato a vederlo e vi metterò anche i miei video di Rainbow o di UFC venerdì e lunedì ci sono stati Black Friday che è stato venerdì e lunedì c'è stato il Cyber Monday ditemi cosa avete comprato se avete preso qualcosa se avete fatto della spesa dei regali natalizi che siccome c'erano gli sconti magari avete preso qualcosa per poi regalarla a qualcuno personalmente io personalmente ho comprato gli accessori dalla GoPro tipo quello da petto da testa da polso vari accessori li ho pagati bensì 17 euro e costavano 79 quindi un bellissimo sconto ragazzi ho approfittato dell'offerta e mi sono lanciato subito all'acquisto quindi ditemi voi cosa avete comprato se avete preso qualcosa qualche videogame non lo so ditemi voi c'erano anche bellissimi sconti su fotocamere però non ho potuto comprarle perché lasciamo perdere lasciamo perdere anche videogame non lo so tipo Halo c'era Destiny so che un mio amico ha preso Destiny con l'espansione a 40 euro ragazzi c'erano sconti fantastici in questo secondo video del vlog of the week ho pensato di aprire una nuova rubrica più che rubrica una nuova espansione del video ad esempio ogni video tipo oggi vi farò una domanda della settimana e voi dovrete rispondere la domanda di oggi è preferite Sony o Microsoft quindi scrivetelo sotto nei commenti ma tipo anche Sony e Microsoft soprattutto nell'ambito console o ad esempio i giochi che escono solo per Sony o solo per Microsoft quindi ditemi voi preferite Sony o Microsoft scrivetelo sotto nei commenti e io vi farò comparire nel video prossimo quindi scrivete sotto nei commenti la risposta della domanda che vi ho fatto della settimana scrivete anche sotto nei commenti una domanda per il fuck che probabilmente arriverà un fuck you time in questi periodi soprattutto magari anche natalizio cosa ne sapete voi natalizio probabilmente quindi potrebbe fare anche un po' più più ridere o potrebbe essere un po' più carino quindi lasciato il like e commento adesso saluto tutta la dio legend che magari mi sta guardando o che vabbè sono i miei i miei amici del clan non è il mio clan ma è un clan che sono entrato a far parte così saluto soprattutto Ale che starà guardando questo video e mi ha insultato prima perché non ho preso il rainbow e lui ogni 3x2 mi dice entri il rainbow mi fa incazzare in una maniera assurda poi saluto Andres vi lascio il link in descrizione del suo canale si chiama Andres Gamer mi sa se non mi sbaglio si la file dei video si carini sta appena iniziato si deve ancora mettere dentro in youtube quindi inserire bene nella confraternità di youtube poi saluto già da Gambirasio che magari sta guardando questo video e ti saluto lasciate un like e commento condividete a tutti quel cazzo che volete commentate sotto della risposta della mia domanda e una domanda per il prossimo fuck you time lasciate un like un commento condividete a tutti quel cazzo che volete qui da Paul è tutto bella raga ho